Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6, la nostra rassegna stampa. Purtroppo per un problema legato alla edizione digitale del Quotidiano Il Centro non saremo in grado di mostrarvi il giornale di oggi, per questo leggeremo per quanto riguarda la nostra regione soltanto Messaggero e Città. Partiamo proprio dalle prime pagine dei due giornali appena citati e soprattutto da quella del Messaggero e vediamo l'apertura di oggi. A 14 scende in campo Marsilio, questo è il titolo dell'articolo di primo piano. Il governatore riunisce oggi amministratori locali, consiglieri regionali e parlamentari all'esame durante il vertice anche le proteste già annunciate da Silvi e Città Sant'Angelo. Proviamo a leggere anche qualche estratto dell'articolo. Il governatore Marsilio ha chiamato a raccolta per oggi a Pescara amministratori e istituzioni dei prefetti di Pescara e Teramo, Gerardina Basilicata e Graziella Patrizia, i presidenti di provincia, dai sindaci e rappresentanti di giunta, dai consiglieri regionali, non solo Teramani e Pescaresi, e questo solo Teramani e Pescaresi, scusate, questo qualche mugugno l'ha prodotto, ai dirigenti dell'ente fino ad arrivare ai parlamentari, compreso l'ex governatore Luciano D'Alfonso. Il tavolo di confronto servirà a valutare gli ultimi sviluppi della vicenda ed eventualmente a mettere in piedi una strategia che consenta di dare una soluzione, sebbene provvisoria, a questa problematica che è causata dalla chiusura alla circolazione dei mezzi pesanti del viadotto Cerrano per effetto di una inchiesta della procura di Avellino. Su questo argomento adesso andiamo a vedere il servizio che ieri è stato curato da Giuseppe Dintino, proprio sui sopralluoghi che si stanno mettendo in atto a Silvi per quanto riguarda la viabilità sulla Statale 16 e la sicurezza dei ponti che attraversano la città di Silvi. Vediamo. Oltre 5 mila tiri al giorno mettono a dura prova la Statale Adriatica, addirittura si è temuto per la staticità dei viadotti dell'SS16 che avrebbero potuto riscontrare dei danni a causa del traffico pesante, che normalmente non è così intenso. Dal sopralluogo di questa mattina a Silvi però non sarebbe emersa alcuna situazione di pericolo. Abbiamo visionato le strutture dei due ponti, Concio e Cerrano, insieme a dei tecnici esperti di questa materia. Naturalmente seguiranno anche alcune indagini strutturali successivamente, ma non si evidenzia grandi criticità al momento. Naturalmente non possiamo dire nulla di diverso fino alla conclusione dell'iter di valutazione. Però non dobbiamo allarmare la popolazione dicendo che le strade non sono sicure. Per il momento sono ancora sicure. I sindaci di Città Sant'Angelo, Silvi e Pineto, avevano minacciato nei giorni scorsi di chiudere la Statale ai mezzi pesanti. Ma i risultati dei dati ARTA, secondo cui i livelli di inquinamento dell'aria non supererebbero, i limiti di legge hanno rimesso in discussione la possibile ordinanza, che non sarebbe più giustificata da un rischio per la salute pubblica. Adesso le stiamo studiando insieme anche alla provincia e agli altri sindaci del territorio. Stiamo valutando quale ordinanza fare e come farla. Dobbiamo dire che i dati dell'ARTA sono sicuramente sotto la soglia limite e dunque anche quella ipotesi di bloccarla per la salute pubblica al momento è al vaglio. Intanto la pazienza dei cittadini che vivono al ridosso dell'SS16 si sta esaurendo e si sono verificate anche alcune proteste spontanee, mentre né dalla procura di Avellino, né da Autostrade, né meno dal governo, giunge alcuna risposta all'emergenza. Indubbiamente la cittadinanza sta perdendo la pazienza. Giustamente si inizia a far sentire, soprattutto chiede cosa si sta facendo. Si sta facendo tutto il possibile, si sta cercando in tutti i modi di trovare la soluzione migliore. Naturalmente questa è una partita, come abbiamo sempre detto, molto difficile e molto complicata. È ovvio che anche noi in questo scenario stiamo spingendo il più possibile per una risoluzione il più presto possibile. E insomma avete visto anche dalla difficoltà nel realizzare questa intervista lungo la Stata alle 16 la situazione qual è, situazione che ormai si protrae da diverse settimane, da oltre un mese e mezzo. Andiamo a vedere poi le altre notizie sempre sulla prima pagina del messaggero. A Teramo il sindaco d'Alberto ha deciso di azzerare la giunta dopo la lettera aperta in cui preannunciava l'ingresso di nuove forze in maggioranza. Dunque ieri pomeriggio il sindaco ha ritirato le deleghe a tutti gli assessori. Dopo 18 mesi dunque si va verso il d'Alberto Bis, così lo chiama il messaggero. Poi andiamo a vedere ancora a centropagina, Casamatta, Sospiri, ha gestito tutto l'amministratore, il ristorante irregolare, l'esponente politico annuncia il ricorso al Tar e dice avremo ragione. Questa è la problematica del ristorante di proprietà di Sospiri. Parla di provvedimento abnorme, preannuncia ricorso al Tar. Stiamo leggendo l'estratto dell'articolo di Vercesi a pagina 35. Visto che se l'immobile è ancora F3 qualcuno dovrà spiegare come è possibile che l'intera palazzina sia occupata da civili abitazioni private e non certo case ad uso pubblico. Queste alcune delle giustificazioni rispetto a questa vicenda. Andiamo avanti, l'Aquila, la finanza all'ITIS di Collesapone, preso studente pusher, plauso delle mamme, la finanza ferma a scuola, uno studente con alcuni grammi di droga in tasca. Di spalla il Festival delle Bollicine invade il centro di Pescara, Brindisi a base di spumante in varie location, il punto sul settore. Poi nel taglio basso, Sanità, il parto in dolore arriva ad Avezzano. L'ospedale di Avezzano dunque si nota, si dota, scusate, di questa possibilità di parto analgesia, ossia del parto in dolore. Poi nel taglio alto, andiamo a vedere le altre notizie. Montesilvano si rovescia una pentola di acqua bollente, gravi ustioni per un bambino. In Serie C bombaggi golli, il Teramo batte il Catanzaro e vola in alto. Più tardi vedremo il servizio. Per quanto riguarda invece la B, Galano raccarica il Delfino, ma scoppia la rivolta dei tifosi. Duro il documento dei Rangers dopo il cambio dell'allenatore. Adesso la misura è colma, scrivono i tifosi. Forte richiamo nei confronti di squadra e società. Le parole di Galano, anche queste, le sentiremo più avanti nel corso della nostra rassegna stampa. Adesso andiamo a vedere la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Il titolo di apertura ritorna sulle vicende del comune teramano. Azzerate le deleghe degli assessori, dopo appena 18 mesi di governo, il sindaco di Teramo allarga sia la maggioranza che la giunta. L'editoriale a proposito di questa notizia di Alessandro Misson, del direttore della città, 18 mesi dopo il titolo e ancora qualcuno nel 2020 che crede che allargando la maggioranza e poi la giunta si possa rilanciare l'attività amministrative di governo di una città a Teramo, evidentemente sì, è il sindaco Gian Guido D'Alberto, cui bisogna dare necessariamente fiducia per l'operazione che sta compiendo. Non tanto per le intenzioni sbandierate, quanto perché di alternative. La città non ne ha alcuna se non il ritorno prematuro alle urne dopo appena 18 mesi, caratterizzati da più da faremo che da fatti. Questo dunque è il giudizio di Misson sulla prima pagina della città. Adesso invece andiamo a vedere il centropagina. La marmotta colpisce ancora. Colpo alla Tercas di Mosciano. Sul bottino la città scrive 60 mila euro, in realtà poi sono arrivate delle smentite. Si è parlato invece di un bottino più esiguo, di soli 7 mila euro. Noi comunque andiamo a vedere il servizio. E di circa 7 mila euro il bottino dell'assalto al Bancomat alla filiale di Banca Tercas, Banco Popolare di Bari, di Viale Crispi a Mosciano Sant'Angelo. Un boato attorno all'1.30 della notte ha svegliato il quartiere prima che tre uomini fossero visti fuggire a bordo di un'auto scura lasciando dietro di loro un denso fumo e lo sportello della cassa continua della banca completamente distrutto. L'esplosivo infatti ha scardinato la cassaforte nonostante l'ingabbiatura che gli istituti di credito hanno deciso di adottare a protezione degli impianti dopo i ripetuti assalti degli anni precedenti. Portate via le cassette che contenevano banconote in tagli da 20 e da 50 euro. L'allarme è scattato immediatamente sul posto e è arrivata anche la pattuglia dell'Italpol Global Security, l'istituto di vigilanza privato che si occupa della filiale di Mosciano. Della banda però non c'è nessuna traccia. I locali della banca sono momentaneamente inagibili, devastati dalla deflagrazione. Gli operai di una ditta specializzata hanno già iniziato a rimuovere tutto il materiale pericolante per ripristinare la funzionalità degli sportelli. Nel frattempo i carabinieri della compagnia di Giulianova, coordinati dal Maggiore Vincenzo Marzo, stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza sistemate all'esterno e all'interno della filiale per cercare di identificare gli autori del colpo. Le altre notizie sulla prima della città, Ruzzo, la vera guerra è tra il PD ed Italia Viva, le polemiche dopo il cappotto in CDA con, ricorderete, sabato scorso l'abbandono anche di 11 sindaci capitanati da Alberto in polemica con le modalità di questo rinnovo del CDA che peraltro però era dimissionario, tutti e tre i membri del CDA erano dimissionari, due terzi sono stati rieletti. La rubrica, quanto ti costa comprare un nuovo cliente, sempre sulla prima della città, poi la vertenza veco, fumata nera, nessun acquirente in vista, il giudice rimanda il fallimento, anche questo servizio andremo a vedere più tardi. Poi il Teramo è una bomba, sconfitto il Catanzaro nel recupero della prima giornata di ritorno, non disputata per lo sciopero della Serie C. Dino Pepe, il centrodestra, vuole commissariare il parco marino sulle polemiche sulla MP Torre del Cerrano e poi nel taglio basso il Caos 14. I sindaci giocano la carta della mobilitazione per bloccare il traffico. Dunque queste le prime pagine regionali, adesso andiamo a vedere anche i titoli nazionali, una carrellata sui principali giornali italiani. Partiamo dal Corriere della Sera, il titolo di apertura di Maio lascia e accusa pugnalate. Non è più il capo politico dei 5 Stelle, né capo delegazione nel governo. Crimi il traghettatore, svolta nel movimento, i peggiori nemici sono quelli che non ti immagini, non è finita, non mollo, l'esecutivo va avanti, queste le parole dell'ormai l'ex leader dei 5 Stelle. Il commento, la mara sfida è ancora aperta al fuoco amico, scrive Francesco Verderami. Poi lo scenario, gli stati generali per tentare un nuovo inizio, l'articolo di Emanuele Buzzi su questa notizia, notizia, peraltro ormai circolava da diverse ore la svolta nel movimento 5 Stelle. Vedremo quali riflessi avrà poi anche nell'azione di governo. Andiamo a vedere il virus, la Cina, Isola Wuhan, bloccati treni aerei, malati raddoppiati in 24 ore e 17 morti, anche se la mortalità di questa epidemia in Cina sembra inferiore rispetto a quella di SARS. Il caso di Bologna su Salvini, che ha citofonato Salvini, lo spaccio e bufera, protesta anche la Tunisia dopo l'iniziativa del leader della Lega. Andiamo a vedere adesso La Repubblica, il titolo di apertura 5 Stelle, si salvi chi può. Di Maio si dimette da capo politico, all'interno i peggiori nemici, è il momento di rifondarci. Regenza affidata a crimi, ora il movimento rischia di dividersi in più correnti, indebolendo la maggioranza, Fico, l'impegno nel governo non cambia. Gli attacchi, senza nominarlo, a Di Battista, rivale per la leadership. E qui vedete il momento in cui Di Maio si è tolto simbolicamente la cravatta, così dando il segno delle sue dimissioni. Il punto di Stefano Fogli, il destino, passa da Bologna, alla vigilia delle elezioni in Emilia Romagna e in Calabria. Il commento, la tempesta perfetta, è l'articolo invece di Michele Ainis, sempre su quanto accaduto nel Movimento 5 Stelle. Poi il reportage dalla Cina, Wuhan, la metropoli isolata per fermare la corsa del virus. Viaggio nel mercato del pesce, dove è cominciato il contagio mondiale. L'Unione Europea, temiamo l'impatto elevato in Italia, allertati i medici di famiglia e ci sono anche controlli a Fiumicino per quanto riguarda gli arrivi dall'estero. Poi nel taglio basso, serve più coraggio per Giulio, via l'ambasciatore dall'Egitto. Sono le parole di Paolo e Claudia Reggeni sul caso del ricercatore italiano. Poi andiamo sulla stampa, il titolo di apertura, Movimento 5 Stelle, addio al veleno di Di Maio. Il capo politico lascia accusa di Battista, pugnalato dalle retrovie ma non mollo, crimi il reggente. Voto in Emilia, Tunisi contro Salvini per lo show al citofono, Bonaccini, la Lega ci vuole, Lombardi. L'impatto sui giallorossi per quanto riguarda questa scelta di Di Maio. Il governo adesso è più debole, secondo Marcello Sorgi. Poi andiamo a vedere nel taglio centrale del giornale, web tax e tregua tra Stati Uniti e Parigi. Trump invia a Pence a trattare con l'Italia. Il vicepresidente statunitense arriva domani a Roma, vedrà Mattarella e Conte. L'intervista a Stiglitz, la svolta del Green Deal, risolleva le sorti dell'euro, così l'economista. Andiamo avanti sul Fatto Quotidiano, anche qui l'apertura è dedicata alle dimissioni di Di Maio. Di Maio attacca e lascia il Movimento 5 Stelle o cambia o muore. Più nemici dentro, durissimo discorso contro i traditori e chi cerca visibilità oscurando i molti successi al governo. Visto da Palazzo Chigi, Conte, Rammarico, ma zero conseguenze per il governo, il futuro del Movimento, Pareri, Padellaro, Scansi, Noto, Ghisleri, Pasquino e Urbinati. Questo è l'approfondimento sul Fatto Quotidiano. Poi invece una notizia che riguarda la lotta alla mafia. Armi da guerra contro il procuratore Gratteri, scorta rafforzata per lui che in prima linea nella lotta all'Andrangheta ci sarebbero dei piani, dei boss mafiosi per eliminare il magistrato. Poi ancora fuori di testa a Bologna, Salvini citofona, l'aggressione era falsa e la Tunisia protesta. Il gesto dà una denuncia inventata. Proseguiamo con il manifesto, il titolo di apertura è l'era glaciale, come sempre, anzi come spesso troviamo sul manifesto un gioco di parole. È il momento di rifondarsi, oggi si chiude un'era, ecco perché il gioco con l'era glaciale. Di Maio si dimette da capo politico dei 5 Stelle, lancia un duro jacuzzi ai nemici interni e si libera della cravatta. Lascia il movimento al minimo storico in crisi di identità, crimi reggente fino agli stati generali di marzo. Poi Salvini, il citofonista, incendia Bologna. Regionali in Emilia, il ragazzo accusato di spacciolo querela, il governo tunisino parla di razzismo. Proseguiamo con il sole 24 ore. In apertura, Trump avverte l'Unione Europea, subito un accordo oppure misure dolorose. Questo arriva dal World Economic Forum di Davos, in Svizzera. Il presidente è statunitense, torna a minacciare i dazzi del 25% su auto e beni europei. Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione Europea, possibile l'intesa in poche settimane su commercio e tecnologia. Web Tax, tregua Francia-Stati Uniti. L'Italia cerca di sventare misure sul vino e alimentari. Queste misure potrebbero influire anche sull'export della nostra regione, che sul vino punta tantissimo. Effetto tassi zero sull'Eurozona, che sorpassa a sorpresa la Cina come creditore degli Stati Uniti. Questo l'approfondimento. Poi le nuove strategie della Banca Centrale Europea. Entra anche la rivoluzione verde, sulla quale spinge molto la nuova Commissione. Per quanto riguarda invece la fotonotizia, la multinazionale punta sulla grande distribuzione. Grom Unilever chiude le gelaterie. Andiamo avanti con la lettura dei quotidiani nazionali su avvenire. Cattiva accoglienza. Bassetti, in Italia i migranti sospinti verso la marginalità e l'irregolarità. La morgese, il ministro dell'interno, integrazione decisiva, basta con il linguaggio di intolleranza. Confronto tra il presidente della CEI e il ministro dell'interno. Il Papa dice che l'ospitalità è un dovere cristiano. Poi, come fa da tempo ormai avvenire l'approfondimento sul sisma nel centro Italia, in particolare in Umbria, e paralisi continua, fondi pubblici bloccati dopo oltre tre anni. C'è anche il tema delle macerie, così come accadde per l'Aquila, che non riescono ad essere smaltite per questioni burocratiche. Poi Di Maio lascia e accusa troppe pugnalate nel Movimento 5 Stelle, l'articolo di politica. Torniamo alle dimissioni di Di Maio sulla prima del messaggero. Di Maio lascia a Mina nel governo. Il ministro non guiderà più i 5 Stelle. Basta pugnalate, i peggiori nemici sono al nostro interno. Crimi reggente, nuovo vertice a marzo, dubbi di Grillo. Perché non ha aspettato lunedì? Un progetto in crisi, la parabola del leader che insegue il popolo, è la riflessione di Alessandro Campi. La strategia del passo indietro, l'incognita Emilia e la scommessa contro l'asse col PD. Poi Renzi, comunque va del voto, Conte ora cambi passo, è l'intervista al leader di Italia Viva. E poi le nomine, Ruffini alle entrate, Minenna al De Maio, Agostini alle dogane. Questo per quanto riguarda i movimenti e le varie nomine politiche. Dalla Cina, il virus sta mutando, 17 vittime, one in quarantena, un caso sospetto a San Pietroburgo. Ci spostiamo ora sul tempo, l'esattore sotto le lenzuola, prima notte di nozze, con Gualtieri. Il fisco contesta ai giovani sposi, Nicola e Giulia, 9 mila euro ricevuti il regalo per il matrimonio. La difesa sono donati dai parenti. La risposta dovevate versargli quel giorno. La multa è di 4 mila euro. Su Libero, tonfo di un capo politico incapace, sloggia il signor Nessuno. Questo è il titolo di Libero. Luigino lascia la guida dei Cinque Stelle e accuse i grillini di tradimento. Abbiamo il nemico in casa, ma il primo traditore Grillo ha trasformato il movimento anticasta in una forza di palazzo. Di Maio, in peggio, arriva a crimi nel ruolo del Becchino a tempo. Lasciamo Libero, andiamo sulla verità. In trecci imbarazzanti, il sistema PD in Emilia si regge sui parenti. A Ferrara, l'amministrazione di sinistra, dato oltre 1,2 milioni alla COP, finita poi in dissesto della moglie dell'assessore, a Bologna, fratelli e cugini ai vertici della sanità e commissario dell'ASL è diventata l'ex presidente in odore di conflitto di interessi. Assalto a Salvini, nella guerra del citofono chiedono scusa prima i tunisini e l'articolo di Mario Giordano, poi Di Maio lascia e spara a zero. I peggiori nemici sono nei Cinque Stelle e l'approfondimento sulle dimissioni di Di Maio e soltanto l'inizio si va verso la scissione, secondo Maurizio Belpietro. Poi economia a rotoli, se non cade il governo, la velina unica evidenzia i minimi rialzi dello spread per colpa dell'instabilità politica, ma il vero pericolo è la paralisi della maggioranza, dall'ILVA ad Atlantia, dall'Italia alla manovra è tutto fermo, secondo la verità. Sul giornale il titolo Game Over, fine dei Cinque Stelle, Di Maio lascia tra i veleni, il becchino e crimi, il PD è già pronto a mangiarsi grillini, Berlusconi a Bologna, da qui il cambiamento. Lasciamo adesso i quotidiani generalisti nazionali, andiamo a vedere invece quelli sportivi, ripartiamo dalla Gazzetta dello Sport e dalla Coppa Italia, il titolo CR tutto, sulla vittoria della Juve sulla Roma per 3 a 1, Juventus che va in semifinale, Ronaldo non si ferma più, il portoghese rompe un altro tabù, segna in Coppa Italia, apre la strada, i bianconeri avrà la vincente fra Milan e Torino. Piazza prova a ripartire, va al Cagliari in prestito, il talento croato da ritrovare, poi i quarti di finale, Napoli-Lazio 1 a 0, Juventus-Roma 3 a 1, appunto martedì 28, Milan-Torino e mercoledì 29, Inter-Fiorentina a completare il tabellone dei quarti. Poi Napolitano porta Eriksen, l'Inter ora ha i soldi per il danese e vede Iorente, idea Allan Vecino, Roma sorpassata all'esterno verso Gattuso per 20 milioni, via vai in Casa Conte, poi Vertice, Paqueta-Milan, si cercano acquirenti, il brasiliano Pionte-Chessuso, 85 milioni in panchina, immobile dal rigore flop alla stracittadina, Ciro Social, Leoni Cani e la polemica derby. Andiamo avanti sul Corriere dello Sport, ci risiamo, Coppa Italia 3 a 1 alla Roma, la Juve in semifinale, dopo la sconfitta di Riad contro la Lazio, Sarri è ripartito, 5 vittorie di fila e 13 gol segnati, giallorossi travolti nel primo tempo, Ronaldo, Betancourt e Bonucci chiudono subito la gara prima dell'autogol di Buffon. Ancora Malagò spiana la strada a Freitkin, il suo arrivo a Roma non sarà un'avventura. Poi ancora Politano al Napoli, Iorente all'Inter, un passo l'accordo tra le due società per lo scambio di prestiti. Su Tutto Sport, Roma liquidata 3 a 1, Micidiali è il titolo sulla partita della Juventus a cui basta il primo tempo per chiudere il quarto di finale di Coppa Italia con la Roma. Milan portoghese spunta Florentino, incontro con l'agente del centrocampista e il talento del Benfica può arrivare subito. Politano verso Napoli, in ballo Iorente, Inter Eriksen, assalto finale, l'appello del presidente Beccaria, Filadelfia via subito al museo per quanto riguarda lo stadio simbolo del Torino. Nel taglio basso, immobile, i leoni restano leoni, i cani restano cani, Ciro contro gli odiatori sui social, poi per quanto riguarda il tennis, Fognini un'altra maratona per salvare l'Italia, tennis Berrettini e Sinner eliminati. Siamo così arrivati al termine della prima parte della nostra rassegna stampa, facciamo il break pubblicitario, andiamo anche a vedere le previsioni meteo per le prossime ore e poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6 in cui apriremo le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. A fra poco. Seconda parte di Mattino 6, grazie al lavoro di Claudio Di Giacomo in regia, siamo riusciti a recuperare in extremis l'edizione elettronica del Quotidiano Il Centro, dunque possiamo mostrarvi le pagine interne. E allora, andiamo subito a vederle. In primo piano, nella pagina Abruzzo, ecco i nuovi concorsi, Asle e Comuni assumono medici e impiegati, sono 19 i posti di lavoro a disposizione negli enti pubblici abruzzesi, riportiamo, dice il giornale, tutte le date di scadenza per fare domanda. Poi, l'incubo sulla statale adriatica e la 14. Caustir, oggi il supervertice regionale, prefetti e presidenti di province, di Pescara e Teramo, i sette sindaci della costa, convocati per le 12 dal governatore. Le novità dell'ultima ora, la società autostrade piazza nuovi sensori sul viadotto Cerrano e il sindaco di Silvi annuncia una maxi manifestazione. Su questo argomento, andiamo a vedere anche il messaggero, la paralisi in autostrada, caos su statale 16 a 14, in campo Marsilio, oggi vertice a Pescara. Il governatore ha convocato sindaci, consiglieri regionali e parlamentari, verranno discusse anche le iniziative di protesta di Silvi e Città Sant'Angelo. il summit decisivo pure nei rapporti con Aspi e la Procura di Avellino che ha sequestrato il ponte del Cerrano. Nel taglio basso, PD, Furfaro e gli ex esponenti di Sinistra Italiana costruiremo una casa comune. Andiamo a vedere anche la città. Nella pagina Abruzzo, chiesto un sottosegretario alla ricostruzione, iniziativa di un gruppo di parlamentari della maggioranza che sperano nella nomina di un commissario di alto profilo. Fabrizio Curcio, capo dipartimento di Casa Italia, auspica che il bonus per il sisma diventi una misura strutturale. Popolare di Bari, l'istituto come perno per la banca del mezzogiorno, dopo l'approvazione della legge di conversione del decreto salva Banca Popolare di Bari. Poi, la terra, un motore radioattivo, la conferma arriva dai laboratori di fisica, la scoperta scientifica è arrivata grazie ai neutrini catturati dall'esperimento borexino nel Gran Sasso. Torniamo sul centro, oggi le manifestazioni, fisco scatta la protesta dei dipendenti. In tutta la regione con bandiere e slogan davanti alle sedi dell'Agenzia delle Entrate, ecco quali sono le loro rivendicazioni. Gian Piero Fattore dice, a livello locale manca all'appello il 40% del personale, turni stressanti per i pochi dipendenti in servizio, con età media fra i 55 e i 56 anni. Poi ancora, ispezione nella discarica di bussi, annuncio del Presidente Lenini nel giorno del forfè del Ministero. La Commissione regionale di inchiesta è tornata a riunirsi a Bruzzo. Salvo il patto con Ryanair, l'incontro a Dublino nel bar dell'aeroporto, Febbo spiega i risultati ottenuti. Restiamo ancora sul quotidiano il centro, le pagine di Pescara, ospedale, il reparto in difficoltà, oncologia, emergenze infermieri, l'ASL pronta a inviare 30 rinforzi. Il NURSIND lancia l'allarme sulla cronica carenza di organico nel reparto dei malati tumorali. L'annuncio del Merager Caponetti saranno assunte 34 unità e riconfermati gli interinali. Cambio della guardia, l'ex primario Carlo Garufi, in servizio all'ospedale San Camillo di Roma, lascia il posto al responsabile facente funzioni, Dimitri Luisi. Poi i subpescaresi ritrovano un cadavere a Termoli nel porto di Termoli in una auto precipitata e poi, bimbustionato dall'acqua bollente e grave, Montesilvano si è rovesciato addosso una pentola mentre la madre cucinava, trasferito al Gemelli. L'escursionista che sparì a Caramanico Fattiboni precipitò da 15 metri il corpo restituito alla famiglia dopo l'appello delle figlie Francesca e Ines a sette mesi di attesa. Si sblocca l'iter sugli esami del DNA, la salma sarà riconsegnata entro dieci giorni. Il 76enne morì sul colpo dopo essere caduto in un burrone. L'evento nazionale della Wisp il volta per lo sport pulito mostra di foto antidoping ieri la presentazione di questo progetto scatti di salute. Andiamo a vedere ancora le pagine di Pescara Sospiri ricorre al Tar ho rispettato la legge per il mio ristorante il Comune ha negato il cambio di destinazione dell'immobile di Via Venezia di cui è socio il Presidente del Consiglio regionale. Ancora Antenne 5G la città in attesa di un regolamento sugli impianti riunione in Comune con Arta e Comitati. Andiamo avanti scontri prima di Pescara Roma sette condanne assolti tutti i pescaresi dopo quasi dieci anni arriva la sentenza sui tafferugli che precedettero l'amichevole all'Adriatico sei mesi pena sospesa ai tifosi giallorossi ma la Procura aveva chiesto quattro anni per venti dei ventuno imputati. L'anniversario e l'occupazione della D'Annunzio quando trent'anni fa in Viale Pindaro rugiva la Pantera 54 giorni scanditi da eventi memorabili come i dibattiti con delle piane pannella e il mini concerto di Bennato questo è il ricordo del movimento studentesco a Pescara nelle pagine di Montesilvano il caso automobilisti indisciplinati metà dei multati passa con Rosso e uno su due non paga la sanzione l'assessore Rossi mancano 7 milioni tra il 2015 e il 2019 il comandante Casale dice di predisporre più controlli la maggior parte delle infrazioni registrate dalle telecamere sui semafori installati installate dopo il 2017 andiamo avanti sicurezza delle scuole fondi per città Sant'Angelo in arrivo 28 mila euro dalla regione poi ancora nella pagina successiva gli oggetti rinascono a Francavilla arriva il centro del riuso nei locali da ristrutturare scusate a Valle Anzuca si potrà portare roba usata in buono stato destinata a chi ne ha bisogno e poi a Francavilla c'è la pulizia dei canali di scolo con le ruspe al lavoro nel quartiere del foro la tragedia del resort Rigopiano morti sul lavoro a Rigopiano dal governo soltanto promesse un anno fa l'impegno preso da Di Maio per far modificare la legge in favore dei familiari delle vittime la mamma di Bonifazi ricevere l'assegno funerario di 2.136 euro un'offesa alla memoria di Emanuele parole che sono state tra l'altro pronunciate anche al nostro telegiornale proprio dalla mamma di Emanuele Bonifazi nella diretta che abbiamo fatto sabato scorso per il terzo anniversario della tragedia del resort di Farindola poi nel taglio basso giorno della memoria mostre e spettacoli popoli il programma di lunedì incontro allo scientifico con Giuliana Menasci scampata all'olocausto andiamo a vedere le pagine di Pescara sul messaggero eccole qui ripartiamo dal caso Sospiri scarica sul socio e Val Tarril presidente del consiglio regionale ristorante irregolare l'esponente politico annuncia ricorsi e si difende pratiche seguite dall'amministratore del pizzo tavolo tecnico politico in comune per studiare una soluzione da verificare l'ipotesi circolo ricreativo per evitare la chiusura lo stop dell'edilizia alla trattoria a casa matta è legato alla irricevibilità dell'istanza di cambio di destinazione d'uso il colloquio con Pierluigi Monceri export investimenti innovazione ricetta di banca intesa per la ripresa economica ancora scontri allo stadio con danne per sette si tratta di ultra della Roma che dovranno scontare sei mesi di reclusione per violenze dell'8 di agosto 2010 assolti altri 14 imputati tra cui il pescarese Ciccarelli condannato a Milano per tafferugli prima di Inter Napoli ancora bimbo ustionato dall'acqua bollente si indaga sull'incidente domestico a Montesilvano nel taglio basso tutela per un territorio fragile la mission della legge urbanistica verso la revisione della normativa dell'83 il presidente dell'INU Roberto Mascarucci anticipa i temi del convegno di domani ancora antenne regole bloccate da due anni i comitati in comune a Pescara denunciano il ritardo del piano realizzato dalla Polab per la telefonia mobile pronto dal 2018 e mai approdato in consiglio comunale e contestazione l'arta le sanzioni dice non spettano a noi poi positivo il vertice sul volo Pescara Bergamo regolarizzati i pagamenti della regione la compagnia conferma la base logistica in Abruzzo questo per quanto riguarda Ryanair ancora Dante in musical il ritorno della divina commedia al massimo di Pescara avanti scusate Avati Flaiano e io storia di una lettera caustica l'intervento di Pupi Avati al premio penne il regista mattatore alla cerimonia del premio La promessa un film girato qui ci penserò poi andiamo a vedere le pagine di Chieti ancora sul messaggero Rispoli pronto a candidarmi ma bisogna decidere subito il consigliere ha prodato a Chieti da capo punta sui progetti la città è desertificata il Movimento 5 Stelle pesca Luca Amicone l'alleanza con le civiche si deciderà a Torino poi il cantiere sotto sequestro il giudice nomina il perito si allungano i tempi per ultivare i lavori a Palazzo d'Achille la storica sede del comune di Chieti ci spostiamo nelle pagine della provincia teatina dagli anziani al web e allarme truffe cresce il numero di vittime fra acquisti imprudenti e soldi anticipati per prendere in affitto la casa al mare calano i furti e le rapine molti reati connessi alla droga resta alta l'attenzione verso le infiltrazioni della malavita questo il bilancio fatto dalla compagnia di Vasto bilancio dell'attività 2019 andiamo a vedere le pagine di Chieti sul quotidiano Il Centro denuncia della famiglia la storia raccontata dal giornale è sparita la tomba della nonna il comune risarcisce i nipoti vanno a pregare al cimitero ma trovano il loculo della congiunta occupato da un altro defunto all'inizio l'ente accusa i parenti di non aver pagato poi fa marcia indietro è stato un errore nel taglio basso la Sevel Sevel rallenta in difficoltà tutto l'indotto adesso operaio morto calo di produzione dei furgoni con la linea sotto sequestro appello alla procura affinché tolga i sigilli poi Ortona paura incontrada a postigli ordigni incendiari davanti al ristorante trovati tre inneschi intorno al Blind Beach sulla costa al confine con Franca Villa il titolare ha acquistato l'attività da poco ora le pagine di Teramo continuiamo con il quotidiano il centro grandi manovre politiche in comune a Teramo la mossa di Dalberto giunta azzerata il sindaco si riprende tutte le deleghe e avvia così la fase che dovrebbe portare all'allargamento della maggioranza la minoranza fracassa anomala l'apertura ai civici questo il commento poi camere di commercio lance pronte al ricorso contro la fusione i consiglieri regionali di maggioranza ignorano l'invito dei costruttori ad un incontro nella pagina successiva Atri scoppia la protesta per i marciapiedi fantasma in via risorgimento c'è solo una striscia bianca che delimita lo spazio per i pedoni è pericoloso passare dicono gli abitanti il sindaco il progetto è da rivedere poi l'ampliamento della discarica di Atri il WWF non si può riaprire un procedimento già chiuso ancora Silvi l'ex fidanzato era terrorizzata dal padre nuova testimonianza nel processo all'uomo accusato di aver incendiato l'auto della figlia poi Pepe giù le mani dalla MP Torre del Cerrano la lega bene Marsilio ancora polemiche sulla lettera del governatore al parco marino in cui invitava sostanzialmente i vertici a non prendere decisioni importanti a effettuare una specie di semestre bianco poi andiamo a vedere le pagine di Teramo anche sul messaggero in apertura fototrappole del comune contro i pirati dei rifiuti sempre più abbandoni di sporcizie il municipio sceglie la linea dura tantissimi residenti non risultano nemmeno utenti della Team la città sporca crescono le segnalazioni di discariche abusive da parte dei residenti che si disfano del pattume in strada poi Dalberto Azzera la giunta rimpasto con forze fresche dopo 18 mesi dall'inizio della consigliatura e ancora Ruzzoreti la presidente il PD dice cose non vere la bagarre dopo la rielezione nel CDA il processo padre a giudizio la figlia mi ha preso a cinghiate poi la nuova scoperta dei laboratori neutrini dal cuore della terra Autostrada nulla sarà come prima Grimi Assoturismo prevede tempi lunghi per la soluzione dei problemi e invita a disciplinare il traffico sulla statale 16 il nostro comune costiero ha il rischio e deve subito dotarsi di un'ordinanza che impedisca il transito dei tir poi ancora Disabile morto in carrozzina a cause naturali la notizia che arriva da Pineto e la fonderia Veco va avanti la procedura fallimentare la protesta ieri delle maestranze davanti al tribunale possiamo andare a vedere il servizio Discussa il tribunale di Teramo l'udienza fallimentare sull'esercizio provvisorio alla richiesta di fallimento avanzata a tempo fa dalla proprietà dell'azienda in attesa di sapere di che morte moriranno i 53 dipendenti della fonderia di Martinsicuro un presidio di lavoratori e di rappresentanti delle sigle sindacali CISLE CGL di Teramo ha indetto una protesta davanti ai cancelli di Palazzo di Giustizia Teramano e anche se c'è pessimismo sulle prospettive occupazionali produttive societarie di questa storica azienda l'importante però è andare avanti con la produzione e non chiudere i battenti Quali sono le prospettive per questi 50 dipendenti della VECO? Sicuramente se non ci si rimbocca le maniche sono complicate perché comunque da una parte ci sono alte professionalità una buona capacità di produrre prodotti particolari che vengono fatti solo a San Martinsicuro in tutta Italia c'è un'aia quindi un'autorizzazione a produrre ma dall'altra c'è un futuro incerto perché non sappiamo quali saranno gli scenari non sappiamo se ci saranno investimenti non sappiamo quale sarà la situazione degli ammortizzatori sociali E la proprietà che dice? La proprietà purtroppo nelle ultime settimane è stata completamente assente che è una delle rivendicazioni che oggi facciamo perché chiediamo che la proprietà ci metta la faccia che si impegni per salvare il futuro occupazionale di questi dipendenti C'è la sensazione che in questi anni la VECO sia stata un po' perseguitata da tutti per cui si è arrivato a questo punto Sì, devo dire che negli ultimi anni diciamo la VECO anzi più di 8 anni fa ha iniziato il calvario degli accanimenti da parte delle istituzioni con prescrizioni abbiamo lottato per l'AIA quindi parecchie multe denunce e quant'altro quindi clienti non vedevano più nella VECO il futuro per le loro commesse e piano piano sono andati via oltre quello devo dire che nemmeno la proprietà si è impegnata più di tanto comunque ad investire in questo sito e a rinnovarsi a cercare di evitare di avere tutte queste prescrizioni è stato un mix letale che ci ha portato oggi qui di fronte al Tribunale con la speranza che qualcuno arrivi e l'ultimo momento e recuperi il sito della VECO andiamo avanti ancora notizie dal Terramano sulla città un passo alla volta verso la nuova giunta il sindaco D'Alberto azzera le deleghe degli assessori e prepara la giunta bis appena 18 mesi dopo la sua elezione tra l'altro alle 11 incontrerà i giornalisti questa mattina per spiegare proprio le sue intenzioni il borsino degli assessori e degli aspiranti assessori Maria Cristina Marroni Simone Mistichelli Stefania Di Pado Avaldo Di Buonaventura Giovanni Cavallari Andrea Core Antonio Filipponi Sara Falini Di Dalmazio e Ciapanna e Ilaria De Santis questi un po' i nomi che circolano e vedete anche le frecce il borsino di chi sale e chi scende poi il Doporuzzo Cappotto al Ruzzo ancora polemiche il PD la butta sul personale con Cognitti Italia Viva chiede rientro nei ranghi oltre replica al bilancio di Teramo vive e ancora Abruzzo ostaggio del centrodestra per le poltrone a Ruzzo e alla Corte dei Conti deputati pentastellati Berardini e Torto critici sui dissapori dopo l'elezione al CDA della partecipata Teramana la replica della Presidente Cognitti passino pure le chiacchiere su di me ma occhio alle fake news del PD sul Ruzzo in una lettera inviata ai giornali e alle testate giornalistiche che poi Lance cambia idea sulla fusione camerale sei mesi fa era l'approdo naturale oggi i costruttori si schierano con Lanciotti nella battaglia contro la regione nuove felpe per il personale sanitario della ASL dopo qualche ostacolo l'azienda rilancia l'idea del sindacato Nursind per rendere riconoscibile il personale Pascal Comi Forti la scuola che prepara al futuro sabato l'open day dell'istituto Teramano poi il Migli una scuola che guarda al futuro questo per quanto riguarda il liceo a Montorio volano stracci tra Facciolini e Guizetti il sindaco smentisce il passaggio alla Lega mettere in dubbio le mie capacità equivale ad un insulto torniamo sul quotidiano il centro le pagine dell'Aquila festival degli incontri la polemica continua Barbagallo rimanda al mittente l'invito del sindaco alla pace la direttrice artistica ha insultato l'evento e la mia professionalità non raccolgo la sua apertura lo scontro si è reacceso durante la visita in città dell'esperta culturale del fumettista Zero Calcare poi Rocca Casale via il quadro che inneggia al fascismo il comune lo fa rimuovere dall'aula consigliare accolta la richiesta delle associazioni lo storico Lolli commenta era uno sfregio ancora tre anni fa le sei vittime dell'elicottero del 118 l'Aquila domani messa per ricordare i soccorritori morti fiaccolate ed escursione a Campo Felice nel taglio basso la lega crisi insanabile elezioni subito Sulmona Federico invita i consiglieri d'opposizione a dimettersi Sbic Casini metta fine alla agonia del comune di Sulmona poi andiamo a vedere le pagine dell'Aquila sul messaggero Barbagallo no al sindaco tardivo il suo dietrofront la direttrice del festival del decennale declina non parteciperò al dossier capitale della cultura la De Simone rilancia l'evento sarà realizzato restano i dubbi sul convolgimento del comune poi antenna telefonica a due passi dalle case battaglia dei residenti accese di preturo poi per l'antico sipario un restauro doc il segretariato del Mibact ha chiesto all'istituto superiore la disponibilità ad eseguire le operazioni preliminari il drappo è stato trovato durante i lavori di ricostruzione del teatro comunale fu dipinto dall'artista il nel 1820 aggiudicazione ex Otefal speranza per i 62 lavoratori e poi la tradizione della festa di Sant'Agnese gli eletti di congreghe e confraternite nella pagina successiva subito ospedale e parto in dolore il summit sulla sanità verso la soluzione è la vicenda che riguarda il reparto nel quale nascono mille bimbi ogni anno ad Avezzano incontro organizzato da Angelo Sante della Lega ma al quale hanno partecipato anche i consiglieri Fedele e Berardinetti restiamo sul messaggero andiamo nelle pagine dello sport Galano infuriato serve una scossa il capo cannoniere del Pescara scuote i compagni siamo molli voltare pagina Melchiorri si inserisce la Virtus Entella tentativo per Iallov della Salernitana ancora la protesta dei Rangers la misura è colma dicono i tifosi preoccupati dalle sorti della loro squadra prima di ascoltare Galano andiamo a vedere anche la doppia pagina che il centro dedica al Pescara ecco la qui serie B tra campo e mercato le grottaglie studia il Delfino assalto a Matri e Melchiorri il tecnico valuta un nuovo modulo per la gara col Pordenore Castanos e K.O. l'allenatore una sfida che considero un'opportunità ma la società resta vigile e porta avanti la trattativa con Di Biaggio che sembra sempre più vicino Masciangelo io il calcio e la pesca a Casalbordino la visita nella redazione del centro del giocatore ma noi adesso torniamo sulle parole di Galano che andiamo ad ascoltare Cristian Galano è un momento delicato dopo il cambio in panchina come avete vissuto questi ultimi giorni intanto? Sicuramente quando viene svolgato un allenatore comunque dispiace a tutti però dobbiamo dare ora dobbiamo dare una scossa perché in questo momento non stiamo affrontando più le partite come prima siamo troppo molli quando entriamo in campo e questo non va bene da parte di tutti quindi ora ripeto poi chi paga è sempre il allenatore poi in campo ci andiamo noi la responsabilità ce la prendiamo tutti ora c'è il mistero e le grottaglie speriamo di cambiare questa mentalità perché così non va bene si è parlato anche di uno scollamento che c'era tra il gruppo e Zauri è una lettura giusta tu che fai parte appunto dello spogliatore io non penso anzi prima di tutto tengo a ringraziare il mistero per quanto mi ha dato a me personalmente ripeto quando non arrivano i risultati purtroppo pagare siamo allenatore ma quando abbiamo vinto con il Benevento con il Pisa sempre lui era quindi alla fine sono i risultati quelli che pagano il mister purtroppo ha pagato lui a noi dispiace però ora dobbiamo cambiare rotta dobbiamo andare avanti perché è cambiato ancora lungo non è una sconvitta che ci deve demoralizzare perché è cambiato ancora lungo e possiamo ancora ambire a qualcosa di importante dobbiamo fare più punti possibili comunque per salvarci prima possibile e poi vediamo se riusciamo a fare qualcosa di buono Le Grottagli un pugliese come te come si è presentato qual è il suo impatto nello spogliatore in questi primi giorni di lavoro il mister da poco che comunque io lo conosco da poco anche se è stato nel settore giovanile del Bari anche come giocatore lo conosco quindi dobbiamo soltanto ora in questi casi 4 dobbiamo soltanto seguire quello che ci dice però in questi primi due giorni ci ha chiesto tanta intensità anche nei allenamenti quindi di questo abbiamo anche bisogno speriamo che già da sabato si veda questo vediamo carico Le Grottagli assolutamente assolutamente il mister ci tiene a fare bene l'ultima Pordenone è la sorpresa e la rivelazione del campionato ti aspettavi che fosse così in alto in zona serie A addirittura purtroppo sapete meglio di me questo campionato ogni anno rivela sempre una squadra rivelazione quest'anno sta staccarendo al Pordenone è una squadra che abbiamo visto una squadra ostica compatta che il suo punto di forza è le ripartenze non giocano questo gran calcio però è una squadra ben messa in campo che dobbiamo stare attenti e spero di andare a fare lì una grande partita come abbiamo fatto all'andata adesso il Teramo ripartiamo dalla città il Teramo è una bomba Catanzaro KO la rete del centrocampista a fine primo tempo regale il trissi di Vittero ai tifosi di Tedino terzo successo di misura dopo il blitz di Lentini e il successo di Domenica contro Lavellino il Diavolo fa sua la partita con lo stesso punteggio delle altre due e Domenica c'era trasferta a Castellammare con la Cavese vittoria grazie al gol di Francesco Bombaggi andiamo a vedere il titolo del messaggero sempre sulla vittoria del Teramo Super Bombaggi il Teramo vola finisce 1-0 al Bonolis contro il Catanzaro i tre punti valgono il sorpasso e la conquista del sesto posto partita dominata colpito anche un palo nel primo tempo nella ripresa i diavoli controllano senza correre grandi rischi per quanto riguarda il mercato Martignago in partenza Barisic trattativa riaperta andiamo a vedere anche il titolo del centro e poi vediamo le immagini della partita il Teramo in grana terza vittoria di fila nel recupero della ventesima giornata contro il Catanzaro bastano un gran primo tempo la rete di Bombaggi poi la squadra rifiata e gestisce il vantaggio il vice di Telino adesso avanti su questa strada Marchetto parla Rai Sport al posto del tecnico Tedino febbricitante di Evitenzia ha giocato un tempo a ritmi altissimi il mercato perde quota Mokulu allora andiamo a vedere il servizio della partita il Teramo cala il tris di vittorie e adesso inizia a volare davvero terzo 1-0 consecutivo in un 2020 che ride alla squadra di Bruno Tedino tornata dalle vacanze natalizie con uno spirito assolutamente nuovo e con un uomo in più che ormai non serve più neppure presentare Francesco Bombaggi e manco a dirlo l'NVP della partita col Catanzaro un suo diagonale risolve una contesa che il diavolo approccia con Birrigia davanti ma con una pressione costante nei confronti di un avversario irretito dall'intensità dei biancorossi vicinissimi al vantaggio già all'undicesimo con la sventola di Santoro uno dei migliori del match che sfiora il palo sinistro di Di Gennaro la squadra di Tedino capisce che la gara va azzannata fin dalle prime battute e così fa anche se al sedicesimo Cristini rischia di fare un pasticcio fortuna che il sinistro di Giannone dal limite è debole contro un lato da Tomei quello del diavolo però è un assedio al ventesimo il traversone di Cancellotti fa alzare in cielo Bombaggi colpo di testa che c'entra in pieno la traversa con Birligea che non riesce a concludere sulla ribattuta ancora Bombaggi a ridosso della mezz'ora invitato verticalmente dai lari non trova la porta da posizione defilata ma sono le prove generali del gol vittoria che arriverà qualche minuto più tardi nel frattempo dall'altra parte è Statella a cercare senza fortuna e precisione la via della rete dal vertice dell'area di rigore Catanzaro che al trentaseiesimo però perde Di Gennaro fatale al portiere lo scontro fortuito ma tremendo con Bombaggi in uscita l'ussazione della spalla destra al suo posto entra Mittica che non fa in tempo neppure ad acclimatarsi che viene beffato al quarantatresimo ancora l'asse Ilari Bombaggi stavolta dalla parte destra col diagonale perfetto del numero 19 ottavo centro in stagione Teramo in vantaggio all'intervallo grazie al suo uomo simbolo i ritmi forse nati del primo tempo però non possono essere retti per l'intero match Tedino richiama un positivo Birligea per Magnaghi mentre Grassadonia inserisce Contessa e Fisnaller passando ad un modulo ancora più spregiudicato che rischia di far male però al diavolo solo in una circostanza al settantaduesimo quando l'esterno Mancino ex Fadova mette al centro un pallone velenoso che caso ricorregge ma in maniera troppo centrale Teramo che invece sul fronte opposto a sede al novantesimo avrebbe la palla per chiudere i giochi con Magnaghi Costa Ferreira recupera e serve la punta in profondità sinistro centrale da ottima posizione che è mittica alza in corner il resto è gestione da parte dei paroni di casa Contedino che vara nel finale la difesa a 5 inserendo anche Soprano per Bombaggi e portando fino alla fine un successo preziosissimo che fa salire i biancorossi a 34 punti in classifica Catanzaro scavalcato e 2020 da urlo per una formazione impermeabile dietro e pericolosa quando attacca con questi ingredienti nessun obiettivo può essere legittimamente precluso è tutto per questo appuntamento giornaliero con mattino 6 che torna domani alle ore 8 la nostra informazione oggi alle 14 alle 19 alle 23 con il TG6 da parte mia l'augurio di una buona giornata Grazie a tutti